E' difficilissimo ovviamente, io compio, è impossibile copiare, però c'era la filosofia di base di Stratos, scusate se mi metto la mano perché non mi vedo, la filosofia di Stratos era quella della ricerca, era quella della voce, era quella della capire da dove viene, e io ancora non l'ho capito, quindi quando ho le ciance mi devi subito fare qualche cosa aiutandomi in alcune fasi su un'evoluzione che ho fatto su uno studio, e quindi il maranzano, il maranzano si suona con delle posture particolari, queste posture particolari in certi momenti permettono anche l'uso della voce, quindi è singolare, riuscire a fare tutte e due cose contemporaneamente senza la loop station, e questo è diventato un giochino, il soprano, lo improvviserò, perché ce l'avevo su un'altra probabilità, però bello deve dire che è questo, si chiama Piccoli Gomini Verdi. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti. Ciao, ciao. 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 Ciao, ciao. Ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.